salve a tutti ben ritrovati a chiasso news domande e risposte ospite di oggi il professor zucchetti che ci risponderà su un argomento che ci è sembrato troppo bello per essere vero e magari lo è ecco è per questo che ringraziamo il professore buonasera professore buonasera a lei a tutti gli ascoltatori della televisione che hanno così piacere di nella pazienza di ascoltarli una persona che non sa nulla può sapere questo che questi reattori sono di dimensioni piccole non possono avere incidenti simili a quelli dei reattori a fissione sebbene anche loro contengano radioattività e quindi andranno comunque opportunamente fatti funzionare in sicurezza non possono essere usati per le bombe atomiche ma la cosa principale però è questa che uno dei due lo dico in inglese pain in the ass possiamo poi tradurlo dell'energia nucleare uno dei due grossi fastidi sono proprio le scorie e quindi avere qualcosa che in teoria ti prometta poi vedremo in pratica quante tonnellate riesce a trattare un reattore quanto costa eccetera ci sono anche altre tecnologie concorrenti ma benedetti costoro che cercano di andare in una direzione che ha anche una serie di fringe benefits di benefici collaterali tra cui quello di sbarazzarci delle vecchie scorie grazie a tutti